Sono figure che hanno tutto un ruolo istituzionale, che questo ruolo istituzionale l'hanno conquistato con i voti all'interno di liste civiche, pertanto noi li accogliamo perché la lista civica dà delle risposte immediate a un territorio e quindi anche alle persone che ne fanno parte. Nel momento in cui ci sono dei percorsi e si vuole magari andare oltre il singolo comune per anche meglio amministrare il proprio comune c'è l'esigenza di un partito che ha una struttura, che ha rappresentanti in altri livelli istituzionali, quindi si entra in una squadra e entrando in una squadra si riesce a fare bene e meglio anche il consigliere per cui uno si è candidato. Abbiamo quattro consiglieri oggi che entrano quindi siamo fortemente contenti, non saranno gli unici, nelle prossime settimane entreranno anche altre persone a testimoniare che azione è in questa fase, ma io penso che lo sarà ancora per tanti anni, un partito che sta attraendo. Come mai il sostegno a Luciano D'Amico? Il sostegno a Luciano D'Amico è partito da una considerazione oggettiva, noi siamo nati per andare oltre il bipolarismo e quindi abbiamo deciso in base a degli elementi oggettivi che per l'Abruzzo, nell'interesse degli abruzzesi, è molto meglio la candidatura di D'Amico, anziché una riproposizione della candidatura di Marsiglio. Lo è meglio perché innanzitutto in termini ideologici, essendo un liberale, lo conosco da 30 anni D'Amico, è una persona che ha i valori in sé di azione. Secondo, D'Amico è un abruzzese, conosce molto bene l'Abruzzo, i 305 comuni dell'Abruzzo e i relativi problemi, a differenza di Marsiglio che viene da Roma, ma soprattutto da un lato abbiamo un amministratore D'Amico che ha mostrato nella sua storia amministrativa di aver governato molto bene due istituzioni importanti, tipo come l'Università di Teramo, l'Ateneo e in quegli anni l'ha portata ai massimi livelli, così come è riuscito a fare un'operazione molto importante, cioè l'integrazione tra la Sangritana e l'ARPA in una società unica dei trasporti regionali che oggi comunque riesce ad avere un bilancio che gli consente anche di crescere e di svilupparsi. Quindi quando lui è stato messo alla prova di governare delle istituzioni, D'Amico è stato bravo e lo dicono i fatti e i numeri. Dall'altra parte abbiamo un Marsiglio che ha avuto cinque anni la possibilità di governare la nostra regione, cinque anni dove la sanità è peggiorata, cinque anni dove l'aeroporto di Pescara ad esempio è stato declassato, cinque anni dove quelle infrastrutture importanti e necessarie per la crescita e lo sviluppo dell'Abruzzo non sono arrivate. Allora non possiamo ripercorrere per i prossimi cinque anni gli ultimi perché sarebbe un ulteriore danno per la nostra regione. Quindi noi abbiamo una grande speranza e sosterremo D'Amico per tutte queste ragioni.